Mi raccomando, stasera arriva una mia amica bellissima, fatemi fare bella figura. Tu Rita sei la mia governante e tu invece il mio chef internazionale. E per cena lunette a radicchio buitoni, per cui la bontà è assicurata. Oh, è un segreto eh? Eccola! Atmosfera meravigliosa, spumante. Adesso però mi devi incantare con un'ottima cena, lo sai? Tesoro, lo so, è per questo che ho chiesto al mio chef di prepararti qualcosa di speciale. Madame è la mia governante. Cosa sta preparando di buono lo chef? Unette a radicchio buon. Buonissime, vero madame? Sono fatte con pasta fresca all'uovo, ripiena di ricotta, grana padano e radicchio rosso. Condita con salsa a base di panna e radicchio rosso a pezzetti. Sai anche cucinarle? No, sa leggere le istruzioni sulla buona. Buona cucina, un libro di ricette che ha scritto lo chef appunto, vada pure, grazie. Sono buonissime. È una ricetta di alta scuola di cucina. Mi piacerebbe conoscere lo chef. Ma certo. Tomasin, eccolo qua, il re della cucina. Con cosa ci stupirai ancora, Tomasino? O quello, o questo. Beh, sì, margherite, pomodorini e zucchine, oppure quadrotti, funghi e pomodori. Due novità buitoni, nuovi formati di pasta, con un ricco ripieno e un leggero condimento. Pronte in otto minuti. Ma come apre le buste lui, non le apre nessuno.